Una decina di giorni fa è uscita la nuova versione di Betaflight 4.4 Introduce tante novità, di alcune vi ho già parlato in un video qualche settimana fa ma cambia completamente il modo in cui si va a flashare il firmware in una FC quindi se volete provare Betaflight 4.4 ora vi spiego come aggiornare Io sono Mattia e se vi piacciono video di questo tipo e vi servono informazioni di questo tipo vi invito a iscrivervi al mio canale Con Betaflight 4.4 gli sviluppatori hanno cercato di risolvere uno dei problemi di 4.3 ma anche uno dei problemi che sarebbe diventato più rilevante con le versioni future di Betaflight e cioè che alcuni processori, in particolare l'F411 oltre a non avere la potenza per gestire a pieno Betaflight 4.3 erano anche abbastanza limitati come spazio proprio di memoria per inserire il codice di Betaflight 4.3 La loro soluzione è stata in realtà anche molto intelligente nel senso che vi danno la possibilità di scegliere quali funzioni vi servono in Betaflight in modo da tralasciare funzioni che per esempio non servono a molti come Mavlink o comunque telemetrie strane, tipi di riceventi come Spectrum che ormai nell'FPV non vengono più usate e che vanno a occupare dello spazio e delle risorse utili per altro quindi il nuovo configuratore si basa su questa logica ovviamente dovete aggiornare il configuratore a 10.9 vi lascio il link in descrizione comunque è sempre la solita storia cercate le redis e scaricate la versione più recente per il vostro sistema operativo vi troverete poi davanti a questa schermata nel aggiornamento firmware e se io vado a collegare la mia FC che è una Foxeer F722 V3 vedete che me la trova in automatico se non ve la dovesse trovare guardate il target della vostra FC sul sito del produttore della FC oppure provate a cliccare automatico in alternativa vi connettete a FC e qua in alto vi esce il target scritto oppure ancora vi collegate alla FC andate in CLI e cliccate version e vedete che vi esce il tipo di target o comunque questo è il target generale e poi vi dicono il board name che è questo Foxeer F722 V3 quindi nel flashare la FC andremo a cercare quel target torniamo in aggiornamento firmware mi trova la mia FC e però vedete che sia che io abiliti o no la modalità esperto ci sono delle opzioni in più faremo con modalità esperto per averle tutte però ora vi spiego i vari passaggi innanzitutto qui andate a scegliere se installare versione normale versione candidata oppure le versioni di sviluppo noi andiamo a scegliere le versioni normali e ci dà l'ultima versione stabile che è 4.4.0 queste opzioni sono sempre le stesse vi invito a tenere sempre selezionato cancella completamente il chip soprattutto se passate da un firmware vecchio a uno nuovo quindi da 4.3 a 4.4 va fatto per forza mentre nessuna sequenza di riavvio sempre uguale va attivato solo se non riuscite a trovare la FC e provate a collegarla tenendo premuto il tastino di boot quindi entrando con la FC già in DFU lui non la riavvia spiegato molto semplicemente queste erano le cose che erano già uguali ma le opzioni nuove le vediamo qui e la prima e forse anche quella che crea più confusione è questa versione solo core e questa versione voi la dovete selezionare solamente se per esempio avete avuto problemi flashando 4.4 e dovete verificare che i problemi non siano legati a periferiche esterne quindi si va a selezionare questo e la versione di Betaflight che ci viene proposta sarà limitata a solo le cose fondamentali per far funzionare la FC questa è la versione che vi fanno flashare prima di segnalare un bug quando avete dei problemi e volete comunicarlo al team di Betaflight quindi è una cosa che non interessa a tanti poi prima sezione è protocollo radio qui possiamo andare a togliere alcune delle cose più pesanti del firmware Betaflight che è la gestione dei protocolli radio i tre più diffusi al momento sono questi quindi Crossfire che vale sia per Crossfire sia per Tracer e anche per ExpressLRS è in assoluto il più utilizzato adesso c'è Ghost che è per ImmersionRC Ghost che è usato tanto in gara soprattutto all'estero e poi c'è SBUS per le riceventi classic e FRSKY se voi sapete che in questa FC userete sempre solo Crossfire o ExpressLRS possiamo andare a togliere le due opzioni che non usiamo andando a selezionare solo CRSF in questo modo abbiamo liberato un po' di spazio nell'FC qui non è importante ma in un F411 può fare la differenza la seconda parte è qui sul protocollo telemetria anche qui ci sono vari tipi di telemetria come smart port necessaria per FRSKY che a noi non interessano c'è il Mavlink ci sono cose anche molto poco usate che prima venivano tutte incluse e adesso invece la mettete solo se vi serve nella maggior parte dei casi o si va su non se per esempio avete Crossfire oppure andate a scegliere smart port se avete FRSKY mettiamo non qua abbiamo altre opzioni alcune di queste sono un po' criptiche e per capire quali sono possiamo andare a vedere il sito di Betaflight qui vedete che questa è la wiki in cui vi spiegano tutte le cose che in realtà vi sto dicendo io a voce e c'è una tabella fatta abbastanza bene che vi spiega tutte quelle opzioni lì alcune comunque non sono spiegate bene però la maggior parte vi fanno almeno capire a cosa serve per esempio AKK SAFIX vi dice che è smart audio e già li capite che se avete una VTX con smart audio AKK cioè le versioni vecchie che non funzionavano normalmente dovete usare questa opzione se avete dei dubbi andate a ricontrollare in quella tabella che vi lascio linkato in descrizione però qua per esempio potete togliere delle funzioni che non vi servono o aggiungerne che non ci sono presenti ad esempio potrei aggiungere il magnetometro che non è selezionato normalmente che ho visto che molti cercavano e potete andare a aggiungere anche la gestione dei servi vedete ci sono varie possibilità io invece andrò a togliere tolgo il GPS perché questo è un FC che uso su un quad da gara e il GPS non mi serve qua da togliere l'OSD HD su cui farò un video più avanti ma che è l'OSD che gestisce bene lo spazio per i sistemi digitali quindi per DJI, WorkSnail, HD0 ma che qui chiaramente non mi serve lascio VTX perché VTX mi serve per gestire la potenza e il canale della VTX e LED strip perché nei droni da gara utilizzo i LED protocolli motore qui avete varie opzioni se avete per esempio una FC con i motori Brushed quindi parliamo di Whoop vecchi andate a scegliere Brushed per il resto a meno di avere degli ESC o delle configurazioni molto particolari si usa sempre D-Shot Define personalizzati è l'ultima opzione che vedete in questa configurazione ed è per andare ad introdurre dei fix delle varianti di Betaflight necessarie soprattutto agli sviluppatori per fare dei test per noi non è importante e se poi verrà sfruttato in qualche modo particolare più avanti magari farò un video dedicato l'ultima cosa che interessa a me particolarmente è che io vorrei utilizzare CAC Mode CAC Mode è la versione di Betaflight customizzata da Limon FPV per il racing io quindi per poterlo fare dovrò usare una versione di sviluppo attivando versione di sviluppo qua ci mostra che c'è già 4.5 e qui in Seleziona in Commit avete varie opzioni di firmware e di modifiche al firmware che non sono ancora state introdotte in Betaflight ufficiale su Seleziona Commit si scrive semplicemente KAACK tutto maiuscolo e si preme sopra e poi si può fare Carica firmware online quando fate Carica firmware vedete che lui va a chiedere che venga creato il file che ci serve e aspettate soprattutto se il file che avete scelto è un po' strano come il mio e non è già stato fatto da nessuno se invece è già stato fatto da qualcun altro ve lo scarica e basta una volta che il file è stato elaborato quindi finisce questo periodo di attesa potremmo fare flash firmware questo è un annuncio che mi dà solo perché io ho fatto questa versione strana ho letto e mi assumo le mie responsabilità do flash e l'FC viene flashata quindi avete visto vi ho mostrato anche in realtà un caso che non è quello della norma perché CAC mode è interessante per alcuni ma non per tutti e il sistema principale è quello che vi ho mostrato non ve la sentite di toccare niente qua se avete un quad che ha cose normali su quindi immagino riceventi crossfire express rs dei motori normali esp normali in realtà qua potete non toccare nulla e fare semplicemente carica firmware online state attenti solo per esempio se avete riceventi frsky perché dovete abilitare la telemetria e per il resto magari c'è il discorso magnetometro smart audio insomma se avete cose particolari va toccato ma una build attuale del 2023 secondo me qua non ha mai niente da modificare programmazione riuscita mi connetto alla mia FC applico e vado a vedere per esempio se funziona il giroscopio il giroscopio funziona quindi diciamo che mi è andata bene in questa FC se il gyro non funziona una cosa che non ho detto e che può essere un problema è che con questo cambiamento loro vanno anche a scegliere solo il gyro che si aspettano nell'FC qual è il problema? il problema è lo stesso che vi ho evidenziato tempo fa quando parlavamo della mancanza di MPU 6000 in giro praticamente alcuni produttori invece di tenere l'MPU 6000 hanno messo un altro gyro e poi non l'hanno comunicato al team di Betaflight quindi secondo me cosa succede? voi flashate un FC col target giusto ma si aspetta di trovare un MPU 6000 e trova invece un altro gyro in quel caso la FC non funziona il gyro non viene trovato la soluzione adesso è solo di riflessare Betaflight 4.3 purtroppo spero di aver chiarito un po' di cose con questo video se vi è stato utile iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao ciao